Che cosa consiglieresti agli imprenditori o comunque responsabili della manutenzione che trascurano o meglio non danno l'importanza che in realtà dovrebbe meritare allo stato di salute della loro copertura e soprattutto dello strato impermeabilizzante? Direi di adottare quantomeno una programmazione, almeno due volte all'anno salire sulla copertura o sul terrazzo o sui terrazzi, salire in copertura e visionare se si vede sporcizia, se si vede magari situazioni di accumuli negli angoli, di accumuli di sporco negli scarichi. Ecco, sono le primissime valutazioni da fare. Io consiglierei magari in primavera e a fine autunno in modo di trovare eventualmente situazioni del genere perché facilmente lo capite sia in primavera sia in autunno abbiamo la caduta delle foglie, il vento, ecco che quindi sulle coperture creano comunque situazioni di accumulo. Quindi consiglio ai manutentori di salire e visionare soprattutto questo.